good morning genova dove eravamo rimasti l'avete visto dall'immagine prima eravamo a dei ferrari o forse a tokyo visto che dei ferrari con dopo il nome di una grande impresa elettronica giapponese è una novità significa che cosa significa brandizzazione ci fanno sapere dal comune e dalla mt brandizzazione vuol dire semplicemente che si dà un brand cioè un marchio a un luogo a un luogo di tutti come una fermata della metropolitana va benissimo è una cosa che si fa in tutto il mondo che si è fatta già anche in altre città italiane ma non risulta perché insomma non è che proprio i genovesi non viaggiano mai viaggiano almeno fino alla pandemia potevano viaggiare e quindi non abbiamo mai visto delle fermate per così dire piazza duomo fiat così tanto per dirlo ecco il discorso è molto semplice va benissimo far entrare nel bene comune cioè a collaborare bene comune i privati che mettano un contributo che permettano di avere una manutenzione adeguata e un miglioramento anche delle fermate della metropolitana va molto molto meno bene snaturare i luoghi per dare ai luoghi stessi il nome di un'impresa e perché dei ferrari è soltanto la prima delle di queste di queste fermate brandizzate vedrete presto anche i marchi sulla fermata di sarzano su quella di brignole su quella di di negro e poi via via le altre ma non lo so io continuo a pensare che piazza dei ferrari sia piazza dei ferrari che piazza sarzano sia piazza sarzano e il logo dell'impresa che sinceramente ringrazierei va messo sotto così non vorrei una volta o l'altra pensare di dover scendere in una qualche fermata della metropolitana o dell'autobus a una marca di vermut oppure qualsiasi altra cosa o di gelati o di tutto quello che volete voi la città e anche i suoi nomi sono più importanti good morning